Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Mattia, non io, non io, io sono qua, vabbè non mi vedete, allora, questa qua è la parte 2 di fascio il budino con mio padre, sì vabbè ma non può essere così difficile, ho paura, mi scotta tanto, tanto, sì. Allora, la stiamo facendo cuocere, giratevi mentre le faccio vedere, allora, sta venendo così, a voi so, sembrerebbe che vi stiate già mangiando tutto, è stra buono, lo so anch'io, nel frattempo ho trovato l'appostamento dove mettere il telefono per queste occasioni, però vabbè. Quasi pronto, poi dove lo dobbiamo mettere, in fritto, ah lì poi lo mettere in fritto, ok ragazzi, stopperemo il video, non è riero che stopperemo il video, faremo una magia, faremo così, e poi quelli lì saremmo pronti, intanto poi esce un bel fruscolino caldissimi, no, non è caldissimo, no, 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 no le 3 e 40 è arrivata l'ora di merenda è arrivata l'ora di merenda quindi io direi, mangio il terzo l'oro di orocioc mentre poi per la merenda poi successivamente mangerò il budino ricordato un soldato un soldato un soldato due come in ok quindi Grazie a tutti. 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 C'è io poi la giacca rende tutto poi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. In questo bel frigorifero qua. Ma come? Con il tetto, l'ha raffreddato un po'. Con cosa? Bisciatti raffreddare così. Per quanto? Eh, mettoni dentro bollenti. Allora, ci vediamo quando si saranno abbastanza raffreddati. Esatto. Ragazzi, intanto che aspettiamo giochiamo un po' a Lego Star Wars, la saga completa sulla mia PlayStation. Allora... Allora... Tanto... Tanto... Io ce ne importa di come si vede. Tanto è solo dall'attesa. Comunque, guardate che l'ho scoperto, raga. Allora... 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 Io quando vado qua... Vado qua. Vado qua. Guardate cosa ho scoperto. Vedete questa porta qua? Io posso fare il... Il... Vedete che va. E adesso invece se lo mando qua... Lo mando da voi. Guardate. Mi sto sparando. Questo. Guardate. Guardate... Si è... Si è... Si è... Si è vagato. Voi non lo vedete. Sì. Guardate... Si è... Vado qua. Questo qua è Luca Grazie a tutti Guardate come fa la guardia imperiale Guardate, aspetta Guardate come fa Non lo vedete? Guardate Allora Papà Si sono raffreddati? Ancora un attimo Aspettiamo ancora un attimo Ci vediamo quando sarà passato un attimo Allora ragazzi Possiamo In frigoriferarli Questo lavoro sarà molto difficile Guardate che Li in frigoriferiamo Ok, una fatta Due Due fatto Adesso Tocca agli ultimi due Questo qua E Quell'altro Questo qua Allora Nella parte 3 Perché È partita da solo l'acqua Nella parte 3 Vi faremo vedere il risultato Ciao Ciao